Ciao a tutti, io sono Sascha Rizzo e oggi vi parlerò dello spread. Solitamente quando parliamo di spread nell'ambito del trading parliamo della differenza che vi è tra il prezzo ask o prezzo di vendita e il prezzo bid o prezzo di acquisto. E solitamente questa differenza rappresenta anche il compenso che noi daremo al nostro broker quando apriremo una posizione. Tuttavia vorrei fare chiarezza su questo tema perché per noi trader lo spread è questo. Tuttavia quando guardiamo il telegiornale si parla sempre di spread ma che cos'è questo spread? Di cosa si parla? Allora presupponendo il fatto che spread significa differenza, significa scarto, infatti indica lo scarto nel nostro caso tra prezzo bid e prezzo ask, quando al telegiornale si parla di spread si parla appunto della differenza tra che cosa? Tra due titoli di Stato. O meglio tra il rendimento di due titoli di Stato che sono solitamente i bond tedeschi e i BTP italiani. Entrambi a scadenza decennale. Perché? Perché per convenzioni internazionali si prendono solo i titoli a scadenza decennale. Quindi come è ovvio che sia lo spread si può calcolare non solo per quanto riguarda Italia e Germania ma si può calcolare anche con altri paesi. Per esempio si può calcolare lo spread che vi è tra i titoli a scadenza decennale della Grecia e quelli della Germania. Solitamente comunque noi prendiamo riferimento alla Germania perché? Perché la Germania è il paese più solido dal punto di vista economico, quindi è il paese più affidabile e quindi ci misuriamo con la Germania per avere sostanzialmente un benchmark di riferimento. Tuttavia per mantenere semplici le cose manteniamo appunto come esempio lo spread tra i titoli decennali italiani e quelli tedeschi. Quindi BTP a scadenza decennale e bond tedeschi a scadenza decennale. Allora cosa succede quando lo spread sale? Quando lo spread sale vuol dire che aumenta la differenza di rendimento tra i titoli italiani e quelli tedeschi e quindi vuol dire che le persone, gli obbligazionisti, perché vuol dire comprare un titolo di stato, vuol dire prestare dei soldi a quello stato tramite appunto sostanzialmente un'obbligazione, ecco questi obbligazionisti vogliono più soldi rispetto a prima. Questo cosa vuol dire? Che l'economia italiana è percepita come meno sicura rispetto a prima e quindi vogliono un maggiore rendimento. Quindi se lo spread sale può voler dire cosa? Può voler dire o che l'economia italiana è considerata meno sicura e quindi deve pagare più rendimenti oppure vuol dire che l'economia tedesca è considerata più sicura e quindi vuole meno rendimenti e quindi lo spread si amplifica. Quindi il ragionamento è semplice no? È ovvio che se io presto dei soldi a qualcuno e comprare dei titoli di stato equivale a prestare soldi a qualcuno e quel qualcuno è lo stato è ovvio che se quel qualcuno è poco affidabile io vorrò più soldi indietro in termini di interessi mentre se invece presterò dei soldi a una persona o a uno stato affidabile come per esempio la Germania allora a quel punto vorrò dei tassi di interesse meno elevati perché è più sicuro. Ora per contestualizzare il tutto vorrei parlare del periodo sostanzialmente che fu peggiore per l'Italia e quale fu questo periodo? Fu il periodo sostanzialmente del 2011 durante la crisi del debito europeo quando lo spread quindi il divario sostanzialmente tra l'economia tedesca e l'economia italiana tra i rendimenti dei titoli italiani e quelli tedeschi raggiunse i 575 punti base. Ora però possiamo chiederci cosa sono i punti base. Ecco i punti base semplicemente sono un'unità di misura e rappresentano lo 0,01%. Quindi ok che rappresenta lo 0,01% però cosa significa alla fine dei fatti? Allora vuol dire che se i titoli italiani hanno un rendimento del 3% e i titoli tedeschi hanno un rendimento dell'1% vorrà dire che ci sarà una variazione di 200 punti base che tradotto cosa vuol dire? Vuol dire 2% molto semplicemente. Ora per concludere vorrei ricordare un'ultima cosa che secondo me è molto importante da tenere presente cioè che lo spread non è determinato solo ed esclusivamente dall'economia italiana che può andare bene o può andare male ma è influenzato anche da quella tedesca. Nel senso che noi possiamo mantenere i nostri rendimenti dei titoli di stato identici i nostri rendimenti identici ma se la Germania migliora la propria economia lo spread salirà ugualmente. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che in quel caso appunto è migliorata l'economia tedesca ma non c'è stato un peggioramento in realtà dell'economia italiana. Vorrei sottolineare quanto lo spread sia importante perché lo spread è un indicatore fondamentale per comprendere, capire e interpretare l'andamento dell'economia italiana o comunque per comprendere l'economia di un paese in generale con un suo benchmark di riferimento ovviamente. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero che il video vi sia piaciuto e che possa esservi utile. Vi chiederei se il video vi è piaciuto un like, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e in ogni caso vi auguro un buon proseguimento. Ciao a tutti!